Buongiorno e buonasera dal vostro zuirito ragazzi e ragazze ed eccoci qua con Kit e David che gli sta sempre dietro come un cane che stravede per una sarsicciotta Come suona male, come suona male E si spera che questa serie prima o poi finirà, in realtà dovrebbero mancare circa 2-3 episodi per ottenere l'happy ending Poi ce ne vorranno altri per mostrarvi i vari Bad End che prima o poi vi mostrerò, non vi preoccupate Allora, noi siamo qui in compagnia di tutti quanti i personaggini vivi e vegeti Qua c'è sempre la mia amata Sophie, la Lolly che ho sempre amato, una delle tante Cosa c'è? C'è qualcosa di sbagliato Cosa sarebbe? Lui non è l'uomo nero Come sarebbe a dire che non è l'uomo nero? Ma loro volete vedere che è veramente il capo del poliziotto? Ma sto grandissimo stronzo nero, in tutti i sensi Qua sembra la vichinga, sta affa... Non mi ricordi, David Certo Buon Dio, trovare quella donna Trovare persone è il mio tipo di lavoro Era un Don Giovanni in passato, secondo me Ah, il padre di Sophie non mi dice proprio lui Credo che adesso possiamo ritornare al giardino Vi ricordate? Siamo arrivati in giardino Proviamo ad attraversare qui No, non si può fare Kit, stai andando lì? Eh, perché non puoi? Infatti Non dirmi che hai paura Che ha paura dei cani? Non puoi entrare dentro No, vabbè, David David Ma ritorna dalla tua amata È più coraggiosa lei che lui Cosa da pazzi Oh, c'è un... Ah, è aperto Che cosa? Tutto quello che io voglio sentire è un... Una suoneria E che cacchio mi sta a significare? Non posso andare avanti Ma... Oh, oh! Sei più senza cuori di quanto... Pensavo, David E lì dietro? Non pensarlo Andiamo Tua madre stia piangendo giù nell'inferno Lo sai? Can't you hear your mother's pitiful wails? Why did my dear Davy leave me alone? I don't want to be alone Please don't leave me alone Davy, oh Davy Ehm, Boogeyman Permettimi una considerazione Quello che ti ha dato la voce Sembra che ha problemi di sintichezze in questo momento Ma cavolo, veramente? Ma scegliete doppiatori migliori So che sono amatoriali Ma comunque un certo criterio di qualità Allora, qua dice Perché il mio caro Davy Mi ha lasciato sola? Non voglio essere sola Per piacere non lasciarmi sola Davy o Davy Se vi ricordate The Crooked Man La madre parla fin fine è morta Però con un sorriso Calmate, non ascoltarlo No Davy, calmati Non lo lascerò parlare in quel modo Non aprire quella porta Let go! You stupid brat! You don't listen to a word, do you? Never listens, never learns Was to put your old man through a lot of trouble What's that? I said your father must have had it real hard with you Jumping into danger alone Following when I tell you to stay That's not being a brat I don't know what is Say that one more time What's the analogy? Non ci voglio credere What's it by your ears too? Or is it your head to blame? Getting riled up over every Think punching me will calm you down Then go ahead Pensi che colpirmi ti farà calmare? Allora fallo Let's go Andiamo Sì perché David sta facendo la figura di uno che non riesce a stare calmo A parte il fatto che adesso vedo Non so dal gioco qui Noto una Un'espressione diversa Io non vorrei che prima o poi David mi infilerà un cortello supericulo Adesso andiamo a sinistra Mica La chiave arrugginita può aiutarmi No Fatemi entrare Adesso andiamo a prendere l'uomo nero ragazzi Oh Dicevamo Alla fine mi ha preso lui Sono morto come un idiota Non ci posso credere E non ho neanche salvato Maledizio Non mi devo rifare tutto il percorso Ma che cacchio Pensava che ci fosse una trappola lì dietro Che poi Kate ha fermato David Per non fargli fare una fine del genere La fin fine l'abbiamo fatta noi Che figura di merda Adesso cerchiamo di non farci ammazzare Subito a sinistra o a destra Uomo nero non mi freghi più Che c'è scritto? Oh È una freccia con una chiave Una letterina Ha un buon senso dell'uomo nero Ah da una balestra Una porta di ferro è chiusa Che sia per questa la chiave? Sì Oh Bavafangulo Alla luce verde speranza Che succede? Oh cavolo Siamo nei guai Ucciderti Mi porrà ad un grande vantaggio Un colpo critico Al detective Oh Sta andando tutto per il meglio Ma sei proprio uno stronzo Boogeyman Boogey 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 E siamo In un corridoio pieno di gas Velenoso Dobbiamo salvarlo Adesso sbrigati Batman Robin sta per crepa Dobbiamo cercare subito un modo Per salvarci Di qua non si fa nulla Eh vai David Pure con l'asma E questo qui Vuole andare con Gita A salvare tutti quanti Una tenda Aspetta un attimo Indossa la tenda Ok perfetto Sì ragazzi Bisogna fare in questo modo Perché altrimenti David fa una brutta fine Adesso ci muoviamo come Cappuccetto rosso Più o meno Attenzione Qua Che corrosivo Ci passiamo sopra Tramite il barile E continuiamo Con o senza tenda intorno Adesso muoviamoci con Kit Dovemo essere veloci 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 E straveloci Non so Io al posto di Kit Mi sentirei come una specie di babysitter Angelo gusto di tutti quanti Vedete Fuoriesce il gas Dalla fontanella Quindi David Sta al di sotto Di noi Forza Kit Più veloce Una botola Arrugginita Utilizziamo La chiave Arrugginita Così fa No Fa una coppietta E siamo ritornati Nelle funglie Scendiamo Camminiamo Nell'acqua La chiave Qui La porta è chiusa Non si può aprire E' proprio un trollo L'uomo nero Dice La chiave è qui Ma devi farti Il mazzo tanto Perché è pieno di Puntine Ah Là ci sta sempre il cadavere Pieno di vermi Ciao Come sei bellezza Ti vedo più abbronzato Del solito Sarà forse l'effetto Prendiamo L'asciugamano Ce lo mettiamo Intorno al braccio Così fermiamo Le morraggie Del sangue Infiliamo Il braccio Dentro Ah Avrà fatto male Vero Abbiamo ottenuto La chiave Di bronzo Utilizziamo La chiave Oh Ridendo e scherzando Abbiamo Sette Sei Cinque Muoviti Kit Ed eccolo qua Ma che è una mummia Abbiamo salvato David Dalla morte E Kit Sviene E mi sembra logico Ha perso Tutto quel sangue Kit Kit si è alzato L'improvviso Ha fatto testa Sulla Sulla faccia Di David Mi sono aspettato Una respirazione Bocca a bocca Che non è avvenuta E mi spiace Per le mie Fan Yaoiste Ma non avete avuto Il dolce Questa volta No perché Di solito Ne hanno fin troppo Di dolciume Ahia cosa ho letto Cosa ho letto Naturalmente Kit ha detto Che se David Dovesse morire Charlie Si metterebbe A piangere E David dice E nel tuo caso Nessuno piangerebbe Kit risponde Forse Nessuno più Neanche la moglie Ma è possibile David vuole continuare A stare con Kit Per salvare la moglie Fai Come vuoi Sono Esausto Ci credo Per tutto Sto sangue Infatti Vedo che Sta chiudendo Gli occhi Kit Qua poco Ci manca Sverrà All'improvviso Siamo ritornati In questo corridoio E adesso Si può avanzare Finalmente Dove cacchio Siamo finiti Stavo bene Prima Che tu Entrassi Nella mia vita Ma che cazzo è Non è colpa mia Ma ma quanto sangue Che sta perdendo Kit riposiamo un po' Se non prenderei Una pausa Tu Stai zitto Non è il momento Sono stanco Va bene Lasciami riposare Ho intenzione Di Di portare in giro Un cittadino Esausto Detecti Ah si mette a fumare Mentre riposa Chi è quel tizio Comunque Come fa a sapere Di mia madre E anche Del passato Di Charlie E' veramente Disturbante David Tu hai celebrato Il tuo compleanno Con Charlie Lo scorso mese O è stato Con Paul E Marion Oh Ho mai detto I nomi Dei miei amici Mi spiace per tua madre Mi spiace per tua madre I tumori al cervello Sono come un campo minato Come fa a sapere Come fa a sapere tutte queste cose Come fa a sapere tutte queste cose Che resti tra noi Che resti tra noi Ma lavorando come un detective Per quindici anni Per quindici anni Viene a sapere diverse cose Come nel passato di qualcuno Pensi che sto scherzando Pensi che sto scherzando La polizia dopo l'incidente Con tua madre Ricordi il detective Ricordi il detective Che ti fece domande? Ma non eri tu Vero? Ah E' stata un'altra persona Ad aver fatto domande a David Però ha lasciato I documenti del caso In bella vista Sulla scrivania E immagino che Kit abbia letto tutto Infatti Cioè Si è fatto I cazzi di David Che pollo Fu quello che mangiò Un sacco di Hot dog Giusto? E poi le anchovie Ma non ti ho detto Non ti ho detto Che ho amato Il liver Ho detto Ho amato Le anchovie E ho amato Il liver E' tutto Odio le acciughe E odio il fegato Questo è tutto Perché Hai fatto una Dice Perché sei stupido Che ho pensato Che ho pensato Che ho pensato Che ti Se sai così tante cose su di me Perché non me le hai detto La prima volta che ci siamo incontrati Perché Sospettavo di te Perché Perché Sospettavo di te Perché io Un anno e mezzo fa Tu trovasti Un corpo impiccato In una casa abbandonata Questo E' un'ulteriore prova Che questo gioco qua E' un seguito Sia di The Cook the Man Ma anche di The Sandman Che that's when I read Your testimony Sketchy Why I understand You were looking For the guy Who formerly lived In your apartment But how did You track him down Without even Said you following notes But when you were Asked to show him You said you Lost You said you Shot a man In the house But there was No gunpowder On the gun No drop cartridges And then you just Happened to find That former tenant's corpse You gotta know That's suspicion But it's true I was led there by the notes he wrote. Once I found the body and called the police I realized they were gone. And I did shoot someone, but I'm not sure if it was a person. As you testified, but I was wary of you because of what you could've done, if you did anything even a little weird. Do you still distrust- When we first met on the boat, I intentionally told you that I was a detective, but then Ah, l'ho fatto di proposito a dire a David che era un detective per vedere se avesse reagito in maniera, come posso dire, spaventata o meno. Però notando David calmo, allora i sospetti erano diminuiti. L'ho investigato la polizia del Stato durante un aspetto sessuale e morto. La famiglia della famiglia e la libertà civile attaccano lui per l'invasione della privacità. Come sai tutto questo, Keith? Ah, il giornalista si era troppo impicciato dalle disgrazie delle persone e l'hanno cacciato fuori dal giornalismo perché parlavano assalito in massa, grazie. Ma come sa tutti i nostri passi? Il bogeyman vive nel tuo closet, certo? Quindi, sempre guarda. Allora, David, si è chiesto, ma come fa l'uomo nero a sapere tutto? Keith risponde, l'uomo nero vive nel tuo armadio, giusto? Quindi ti osserva sempre. Eh, che cazzo? Ti stavo osservando quando tu stavi coccolando tua moglie nel letto. Ahahahahah! Ahahahahah! Lui è soltanto un umano. L'apparenza, le armi, le informazioni. Sono tutte quante soltanto per spaventarci. C'è un po' che cazzo? 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 I go fishing for corpses. I've got my lousy pride in my duty. Even if you're forsaking someone important to you? What are you trying to say? There's a big gap between your ideal and what you... Isn't that painful for you? Hmm. I wanted to be a pilot, but thinking about it now... So? You'll understand someday. I'm thinking of taking a nap here. Keith, those things you said before. Were you trying to make me angry? I don't intend to tell anyone your history, nor your family problems. Sorry if you're still pissed. No, it's fine. I guess I am kind of a brat. Keith has assicurato che non dirà nulla a nessuno. Perfetto, ragazzi e ragazzi. Direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Qua c'è stato un dialogo che non finiva mai. Anche se alla fin fine le cose essenziali... potevano essere mostrati in qualche secondo, cioè alla fin fine abbiamo potuto leggere dei dialoghi abbastanza logorroici. Detto questo vi saluto. Se volete commentate. Alla fin fine siamo riusciti a salvare David, però abbiamo un kit che ormai sta messo veramente molto molto male col braccio destro. Non le invidia affatto. Quindi se volete commentate e noi ci risentiamo ai miei futuri video. Bye bye!